Tutto, tutto ti uccide praticamente, ma proprio un bel posto si uccide insomma In più ci sono dei cecchini, quindi quando si arriva al nexus due stanno indietro con i cecchini e ammazzano i cecchini Due vanno a sinistra, due vanno a destra Chi è che è cecchini e danni void? Chi è che hanno i cecchini e danni void? No, per i cecchini fa niente, il danno void serve per gli studi dei minotauri E quelli quanto sono all'inizio i minotauri? I minotauri sono sempre, ci sono dappertutto Vabbè raga io faccio partire, voi siete pronti? Sì, io voglio prendere un po' Allora io e Andrea andiamo a sinistra Diego e qualcun altro a destra e Simo che è più uber sta al centro da solo Sono sicuro Sarà contento Con la sigaretta all'angolo della bocca Sembra un po' Sembra un po' Sembra un po' Non li ho più bella No, la mia è più bella, mi spiace La mia è più bella è un po' La mia è più bella è la sua è bianca è oro La mia è so Però La mia è all'interno è bellissimo non si vedono eh io c'ho sulla puttana tui lake incatenata che mi succhia il cazzo io la mia l'ho fatta elaborare da west coast cazzo puoi iniziare adesso, devo mangiare un timore bravissimo diego e cosa fai? la sgoli come timone? per farla virare la sgoli? cos'è? la usi come timone per farla virare Allora, Brickaz ah ferma marigazz, ferma! fermà tutto è arrivato allora due vanno a sinistra due vanno a sinistra allora plaquer allora Brickaz vai comprando io vado con Silvio Andretta dietro due qua e mezzo l'altro è di due state qua e io e Diego andiamo di là ok ciao Brando ciao eccolo davanti noi abbiamo trovato il nostro stavate provato a fare il ride ho salutato i miei amici ho detto vabbè vado a provare aia 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 non l'ho visto non ce l'ho avuto ancora no non ce l'ho avuto vai dentro ok ce l'abbiamo due voi ce li avete tutti ci siamo ci siamo dobbiamo solo tenerli adesso bisogna tenermi bisogna star dentro e adesso si forma vedete che si sta formando una roba al centro Diego oh oh è arrivato aspetta aspetta che meno male che c'ho minchia quindi bisogna stare solo al centro si bisogna stare all'interno ho detto che arrivano voi serve eh almeno uno eh lo so però è finito era l'unico colpo che avevo almeno uno deve rimanere dentro è lì c'è un cazzo di quanto si forma al centro c'è quella torre lì che si sta formando in alto gente non dovete morire perché sennò si ralleva no si sta deformando si sta smontando la torre cazzo attento Simo 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 il problema è che non cioè si era incastrato nel gradino qua sotto e non mi faceva salire Andre davanti dietro eh Diego tu è in mezzo c'è proprio sto in mezzo sto in mezzo ok vai dai dai si sta costruendo ma perché si sta smontando di già perché qualcuno non è in mezzo o arriva il minotauro quando il minotauro entra dentro a me c'è entrato il minotauro dentro quando entra il minotauro si smonta sta smonta stai lì stai lì Simo stai lì vado a prendere i lanciomissili i colpi dietro dietro se uno di due sta in cica la colonna forse è meglio forse riesce ma no sei morto? e mi ha scioltato e non mi fa non ti fa curare nooo mi ha risuscitato no vabbè dai non è così ma vado spara in una schiena ok munizioni stai dentro stai dentro che c'è un colpo di lanciomissili stai dentro che devo prenderlo anch'io vieni dentro aspetta eh aspetta aspetta Genge come si può messi voi perché qui si smonta quando arriva in una terra dentro non esploto Andre non ha ma nooo dove c'è Andre non va bene si è smontato tutto aia oh c'è il filo di puttana oh c'ho mica ho mancato di bestia ma qua noi qui siamo e al centro al centro c'è la piazza e ogni volta che è un cazzo di pretoriano non deve entrare proprio non deve entrare sto bastardo Andre dietro c'è un pretoriano mi sa si è entrato ragazzi si è entrato ragazzi è entrato ha fatto uccidere me eh giusto allora ecco è dentro ancora posso posso provare quando arrivo a correre l'incontro col pompa gente ma voi non avete niente di voi arriva 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 si vanno farlo entrare non farlo entrare non farlo entrare no Andre no 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 aia aia mi ha già avversato rando facciamo che io esco e lo vado a pigliare prima che possa entrare si si può fare anche così eh troviamo così vado eh si vado 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 no l'avevo mancato e che di prescani mi arrivano uno per l'altro no non entrare figli di puttana Andre da dietro io ho la special va siamo un guardiano a te minchia meno male che volevamo farlo in due o tre cazzo vabbè dai l'unica cosa è non fare entrare eh brigati io se vuoi posso andare a cercare di fermare questi qua che eravano da sinistra però quello da destra vado io lo fermo Andre se la special usa ok dai gente che sei quasi formato allora facciamo così facciamo così chi di noi due c'ha la special e lo blocca io adesso ce l'ho io la special bella dai gente che sei quasi formato ma dov'è te ne lo vedo resistete o con la special lo potete fermare anche se non ci avete danno no 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 adesso arriva da dietro arriva 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 Simo 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 no no è io uso cecchino ma che la stata tutta la Россi ma si è caricato tutta la vita l'hai visto? no però non è successo niente dai che è quasi completo arrivo arrivo non c'ho più la super però dai 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 no un altro vabbè vado io vado io vado io sparagli nicchia lo sto rivellando di colpi io la super hunter la uso io se nicchia guarda come mi ha ridotto dietro dietro ah ok lo vedo si sta formando dai dai ce l'abbiamo quasi fatta dai io c'ho la super eh ok dai eccolo arriva arriva vado io andrei io non ho munizioni vado a prenderle dai dei munizioni velocissimo mio prese niente ok non faccio scherzi eh dai che si è aperto dai che si è aperto dietro simo vai tu da dove cazzo si entra da dove cazzo si entra in mezzo dalla porta no aprite pure quelle aprite pure quelle fuori dalla volta di vetro ok quelle dentro no vediamo livellino 11 vieni dentro dai dai aspettiamo aspettiamo lui grandissimo grandissimo e balla brando vieni dentro che prima che ti frega il posto magari chi lo sa come funziona sto gioco non può entrare non può entrare no no ci frega le casse è il figlio di troia ma come fa a fregarci le casse venite avanti dove la cassa e poi ma dov'è la cassa o eh aspetta io lo so aspetta Diego non andare avanti aspettiamo tu non vado avanti ci siamo tutti ci siamo tutti se mi sei andato la cassa ah minchia di niente ragazzi non fate scherzi dove la cassa senti il pirata che vuole subito la sua paga la cassa mica che avvolto i che siamo ma quanto un attimo ma dove cazzo ha eccola là eccola lì la cassa presto è mia prima vai via 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 tutti energia ascendente vaffanamolo due ascendenti va bene due energie adesso c'è la parte sostarella allora bisogna buttarsi giuri qua vai ragazzi prima voi come giuri qua dove spingiamo la gente adesso c'è la cosa difficile aspetta aspetta non buttiamoci subito giuro buttargli al culo al nexus e fargli la foto senza svegliarlo qui bisogna scendere veramente ciao 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 no arrivatevi gente non è un puttanaio no mi dispiace sei troppo in fondo il salto della fede di Diana Jones qui ma perché sono l'unico franzo che è morto con quel salto allora ragazzi allora qui si può andare le casse le altre due casse sono dopo aver superato questo pezzo oh ma dove cazzo sono caduto ma no porca troia ma guarda dove cazzo sono finito no porca troia che tana di merda vaffanculo vita del cazzo non andate lì avanti non andate lì avanti vabbè addio eh addio ciao 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 ho fatto un passo falso ascoltatemi un attimo più adesso non scendete ragazzi mi metto qualche cecchino ma dove cazzo siete perché io sono rientro indimitato perché sono davanti al nexus ecco ma porca Diego è sceso dove non doveva scendere no non è che sono sceso sono morto e sono risuscitato Diego è rovinato tutto ascoltatemi bene ascoltatemi no Diego ecco porca troia di quale di quale allora due vanno a sinistra dove c'è Diego due vanno a destra dall'altra parte due stanno lì in centro e sparano a quelli lì in mezzo quando escono i cosi verdi quando escono i cosi verdi bisogna andare in quella fontana che vedete lì in mezzo capito io vado da Diego per forrificarsi ascoltatemi un'altra io non ho ancora capito un cazzo comunque sinceramente allora tu stai a sinistra e vengo anch'io lì c'è un po' ma bisogna solo ammazzare queste merde? per ora si poi esce una pallina gialla e bisogna sparare questa pallina qua che sarebbe l'oracolo mmm che bello spariamo le palline dai dopo che si ammazza la pallina esce lo scudo lo scudo lo piglia lo piglio io perché so che cazzo devo fare questo scudo qua praticamente serve per purificare la gente che cosa significa? significa che quando non si uccida la pallina gialla e si manca quando si manca la pallina gialla a tutti in testa viene un marchio è uno verde ecco quelli verdi non bisogna andare dove c'è la pozza perché sennò dopo un po' muori e chi è che resta qua sopra? lui resta sopra no no bisogna andare giù vai andate due a destra due a sinistra andrè 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 eeeh io riesco a brigare qua dove? qua dove? andrè io sei al centro io sei al centro io stavo ammazzando da lì stavo ammazzando da lì stavo ammazzando da lì o la sopra perché mi hai fatto scendere adesso mi spaccano il culo quelli verdi o che forza gialla andrè io sei al centro giusto? ci sono ok lo sentite quando mi spaccano eccolo perché fa un suono strano ragazzi sei cecchino qualcuno deve tenere a cecchino Diego tieni cecchino te dov'è il cecchino? no tu tieni il cecchino equipaggiato perché hai il danno void almeno cioè perché io so il danno void io non ho cecchino con danno void non ero io fa niente no io c'ho un danno void e nexus è invincibile si si mi ha corredo conto e ho visto che spara proprio a caso amici non ci sono munizioni però cristo di un dio quella madonna aia cioè io non ho più vita aia cristo mica qua sotto cosa c'è ragazzi qua sotto cosa c'è tutti i gialli sono no 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 quelli verdi non dovete farli passare se morite ditelo eeeh il problema è non farli passare e il problema è che sono niente che colpi adesso io siamo anche noi difendi la confluenza di destra e di sinistra ecco a posto lì adesso spawnano da quei portali in fondo gente due stanno in mezzo quali sono quali sono ecco sono verde è nato se no mi ammazza si bisogna andare in mezzo a purificarsi in mezzo dove? in basso c'è una specie di luce si no perchè mi dice rianimazione disponibile tra 6 secondi si ah si praticamente bisogna aspettare 20 secondi quando uno muore si ecco ora puoi rianimarmi brigo arrivo oh oh ma le munizioni che sono? no gente non dovete farli sacrificare a destra no accio 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 non c'è colpi non c'è colpi non dovete farli passare a destra e andare a farli sacrificare perchè sennò moriamo tutti stiamo provando si partano dal centro ditelo ok così ci mettiamo qua Diego sinistra cazzo come grosso quello aspetta quello ce l'ho no non ce l'ho ce l'ho io il danno void bella bene così bene così Diego munizioni se vuoi confonda si si l'ho viste oh Cristo oh Cristo c'è il minotauro a destra a sinistra arriva un minotauro in mezzo ragazzi un minotauro in mezzo vi arriva ho visto Diego minotauro Andre l'ho visto l'ho visto no ce n'è un altro qui l'abbiamo preso sono andato lo special sono così andato io dietro di noi dietro di noi non può lasciare jugare di vomito spariscono mica meno male che l'abbiamo visto vaffanculo ci sono i cecchini da noi che rompono i cojoni fanatico fanatico qualcuno tenga il cecchino e sparire a tutti i cecchini in alto minchia guarda sembra quasi di stare a lavoro no no non farlo sacrificare oh che cazzo è successo è sparito tutto ciccio il templare è molto adesso Andre mi prende un momento di usare la special adesso dovrebbe uscire l'orato l'ho già usata merda chi è che deve uscire? quelle palline gialle di merda bisogna uccidere cazzo guarda quanti aiutiamo loro si si aiutiamoli ragazzi qui c'è di tutto di tutto ho visto occhio alla forza minchia minchia come di oggi sti robini di merda cioè ho usato la special non ci vediamo più un mezzo oh questo è un altro gigante abbiamo fallito abbiamo fallito porca troia è da qualche parte è entrato uno che si è sacrificato mi sa perché c'è sia di qui che di là e quindi? e quindi stiamo rifacendo da capo esatto è puro bello stiamo rifacendo da capo eh eh sì perché sono ricomparsi le torrette da da difendere e che forse da difendere io non ho fatto non ho fatto scorta di munizioni prima di ma non è importante è che l'unica cosa è che non devono voi avete una specie di roba a destra se si avvicinano a quelle robe e completano il rituale si annulla di nuovo e si fa ahia attento io cerco di aiutare anche voi però è difficile no no voi pensate in mezzo in mezzo c'è più roba dovete pensare in mezzo siamo noi che veniamo ad aiutare quando c'è troppo casino voi dovete pensare in mezzo perché almeno non ci non ci arrivano alle spalle oh salire cazzo è pieno di stronzi arrivo ma da qua gli altri non riusciamo per nulla da aiutare aia aia no 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 cazzo mi sei passato avanti mi ti buco la gara eh scusa andrea ma io mi resto dai vaffanculo i venti secondi oh e io vado a vedere una tv di là perché cazzo è pieno di stronzi da lì da loro aiutiamo simon aiutiamo no finisca eh arrivo finisca non c'è problema arrivo arrivo cazzo che c'è ma chi gli hobgoblin ma dai pure il nexus che rompe i coglioni si è il nexus che rompe i coglioni sono morto il nexus cazzo simon ragazzi aiuto arrivo sono in 200 questo è veramente un troppo no andrei 10 secondi ancora ok 5 4 3 2 siete morti tutte due a destra no no oddio io sto morendo non c'è più neanche la munizione no abbiamo fallito stanno facendo il rituale dove? ho letto preparo il rituale della negazione sì e non mi sembra non lo rifare ancora basta nexus cristo basta nexus i coglioni miganka il problema principale è qua davanti il nexus distruggi gli oracoli ok ci sono delle palline gialle quando le vedete bisogna distruggerle ah ce l'abbiamo fatta allora ecco lì eccole qua 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 dove è dove è ragazzi è anche al centro non lo so via con merda cosa dove è qua a posto ma sono sempre più resistenti ste merdi ma se le palline gialle dove sono? ragazzi non esistono anche io devi guardare in mezzo alle gambe ma io ne ho due gigantelle e non lo so dai ma io sono avvelenato sono avvelenato sono avvelenato sono avvelenato andate in mezzo purificare se no muovesse tutti qualcuno ha purificato qualcuno non ha ammazzato l'orato in mezzo dove possiamo andare? in mezzo qua dove siamo noi rituale di legazione ocio ocio io sono morto oh cecchino ma dov'è? in altamente cos'è che ci infide perché non sa dove qui a destra c'è anche il pati vengo a mancare Diego la pallina prima la pallina c'è uno goblin di sopra che mi cecchina non posso dov'è dov'è ah l'ho visto sono i cecchini adesso sono avvelenato sono avvelenato allora riprendiamo le postazioni due a sinistra due a destra due e mezzo rituale di negazione da qualche parte no ma ascoltate quando uno è avvelenato dove cazzo deve andare qua in mezzo dove siamo noi qua in mezzo c'è un buco in mezzo ci sono delle stale che scendono in fondo sono una piscina ahia ci sono i cecchini mica come sono lontani Diego mettiti il cecchino oh oracolo io la pallina l'ho fatta oracolo pallina 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 due morti abbiamo due morti si sono intanto io sono morto anch'io c'è tornato un altro cecchino simo c'è qualcuno che non ammazzò la pallina perché adesso di nuovo esce eh vedi il cazzo l'ultima pallina l'ultima pallina ragazzi io la mia pallina l'ho uccisa subito eh eh ma bisogna cercarle perché sono sempre in giro madonna sì ma io sono vabbè ormai 5 secondi stai lì io ho già che sopra c'è un tipo due si può animare da solo ah ma di nuovo ahia nella schiena mi chiede l'ho già ammazzato è di te pallina Diego sinistra dov'è destra ok Diego eh eh merda guambalù guambalù andate a destra la pallina è la la vedo minchia uccidetela la stiamo ammazzando è vero si fatta 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 ragazzi attenti i cecchini ok a posto bo di nuovo cecchini cecchini mi stanno inculando i cecchini Diego dalla nostra parte c'è il mio palo lo vedo lo vedo lo vedo io vi stavo cercando di aiutare con i cecchini ahia ahia eh ma rispondono immediatamente ma che cazzo mi sta sparando ancora mica c'è un palo aiuto aiuto palline palline vedo vedo io cerco il cecchino l'avete prese tutte? io ho preso una pallina che era qui al centro l'altra non l'ho vista qui non è venuta nooo sono avvelenato anche io sono avvelenato cazzo non c'è in mezzo non c'è la roba in mezzo merda come si fa? come si fa? come si fa? è in mezzo anche per i morti che morti che morti che bordello eravamo eravamo alla terza alla terza ondata non ci si può o ti distruggono tutti gli oracoli che sono veramente tanti allora ragazzi io voglio sapere chi ha preso il trofeo di questo gioco per che non muore nessuno della squadra voglio proprio saperlo a fare questa roba? mh si si cazzo c'è questa roba senza morire mai nessuno della squadra nooo allora ragazzi io cerco di fare le cittine aiutati con l'oracoli l'oracoli? no spero ma compare e scompare? si 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 c'è questo mi fa vedere i cazzo qui adesso bisogna ammazzare però eh sinistra a destra e io provo a farmi capire occio simo simo si andre minotauro urge aiuto arrivo morto ne arrivano altre? aspetta che mi metto su di qua aia aia dio bono morto merda hai visto? son morto l'ho visto 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 ma finchè stai a 25 secondi non ti posso risuscitare palline dietro di te mastro Diego anche qua dove c'è la mia luce sono la luce nella mia destra c'è l'oracoli arrivo 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 ok ok dove sei tu? sei quasi vivo cazzo cazzo eh c'è un fissino che non si vede ragazzi ve lo dovete far voi a finestra ok lo vedo ancora di nuovo eh? occhi agli oracoli no questo deve essere l'ultimo se non erro il terzo no è la seconda ecco di vacca qua no bregat non deve andare giù ha il marchio e' quando vedi verde ah ok ma questi rituali non capivo che cazzo voleva minotauro minotauro ma oracoli oracoli destra sinistra ok avete fatto a destra c'è un cecchino qua mi sta spaccando il culo aiuto andrei sto facendo mille cecchini ragazzi avete patente andrà per tutto le parti contemporaneamente che cazzo è non è ancora cotto questa è l'ultima vieni giu andre assolutamente risuscitare mastro assolutamente se non ce la fermo mai vado su a vedere tira sui mastro che con che è pronto che cazzo è un pasticcino è cotto e mangiato eccoli qua qua destra 2 la mia è fatta la mia è fatta lo vedo lo vedo lo vedo fatto anche l'altra fatto anche quella dai gente no cristo ragazzi il nexus mi spara continua a spararmi eh anche qua spara volta il cecchino ci mancava quel cecchino ancora un altro ma che cazzo cecchino cecchino eh ragazzi io finisco le munizioni dov'ho tutta che sto ricercando di ricaricarlo è un pasto di susto che ho visto senza farlo spere che quello merda dai scendo qua uno che mi ha avuto più le due a destra eh vado io vado io vado io ragazzi sono io ok ok ancora con l'inistra destra destra a destra la pallina è andato il mio ok mi deve mancare l'acqua qua dietro dietro io sono pronto per essere rianimato vengo a realizzare io vado io ok grazie che cecchinata mi sono beccato figlio mio pure io ma sono finiti o no sti cazzo di pallini di merda non lo so come tu non lo sai tu sei cicerone non lo sai ho finito le munizioni dovrebbe spuntarlo minotauro sotto minotauro sotto aiuto no c'è dietro di te ragazzi vabbè mi reso dai sono finite ste palline di merda o no non finiranno mai però deve come non finiranno mai deve spawnare lo scudo ecco gli oracoli è quasi morto cazzo qui c'è l'oracolo ragazzi ancora a destra ce n'è un altro dove? dove? nexus grazie per la vita oh allora finito qua dovrebbe essere questa parte ma noi non è che dobbiamo far qualcos'altro no bisogna aspettare che no no è solo questo ragazzi bisogna adesso bisogna uscire lo scudo ragazzi qui se non riesce lo scudo esco io mi stanno prendendo a calci in culo ogni tanto il nexus quando si gira è imbastardito proprio minotauro soppogli ragazzi qua a destra aveva la vostra destra ce n'è uno ok qua sotto al centro cazzo cazzo sana io non ho fatto il cecchino vede io ne faccio un altro dietro di me da solo sono da solo sono anch'io ce n'è altri due a destra fatemi con la destra a destra a destra a destra a destra cosa mi ha fatta? no c'è ma ragazzi non ce la faccio più se il minotauro mi sta prendendo a faccio in culo aiuto mi era io arrivo andrei arrivò cosa bisogna fare? brigat io sono da rianimare porco arrivo brando sono morto ma non riesco a capire o sbagliamo qualcosa allora noi dobbiamo fare qualcosa o vanno fatti in un certo ordine non lo so no no dai non c'è ordine quello sono sicuro o forse dopo che abbiamo fatto quando uccidiamo tutti gli oracoli ho capito forse che cos'è quando uccidiamo tutti gli oracoli bisogna andare a pigliare lo scudo da qualche parte si fa una lo scudo secondo me ah eh no 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 ma che figa cecchino ero lì per rizzare Andre sono tutti due morti mi serve una red l'energia ascendente? dove è stata? ce l'abbiamo fatta adesso ce l'ho scudo la roba uber a voi tutti la roba uber a me l'energia ascendente ma devo insegnare ma anche a me l'ha dato l'energia ascendente ragazzi guardi che mi sono mai niente allora anche l'energia ascendente io volevo pulire guante di per me cosa bisogna fare? praticamente bisogna uccidere innanzitutto gli oracoli ancora esatto che sono più resistenti oltre a tutto e quando quando gli oracoli vi mettono il marchio dovete venire vicino a me che io faccio una cazzo di cosa e vi levo la maledizione adesso io sparo al Nexus e sparategli tutti capito? si ok sparategli al Nexus vai adesso suca ma guarda suca gli abbiamo fatto il solletico aia mi sparano nel buco del culo aia dentro nel buco del culo mi hanno sparato aiuto ragazzi mi arrivano i forro oracoli merda oracoli cecchini froci non ci sto capendo una mente ve lo dimmi gente io sono pronto quando volete sparo al Nexus si si fai pure si spara dove cazzo è il Nexus però qua dove eravamo noi oddio qua mi stancheretano vai 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 spavili tutti no mi ha bloccato rompimi la barriera simon no voi dovete quando vi esce una barriera dovete spararli si è spostato il porco cazzo non devo morire cazzo non devo morire ho sentito un ho sentito un oracolo ragazzi si pure io ma in realtà non ci sono ai 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 no c'è c'è ragazzi ma che cosa è è imbostato ma c'è gente io gli sparo miratelo tutti si 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 dai vai oracoli andrea ora quelle qui sotto da noi ho visto ho pigliato lo scudo vado a pigliarlo scudo vedetelo cosa devo fare sono morto sono morti tutti allora quando esce quella cosa lì praticamente con lo scudo bisogna schiacciare alle 1 adesso lo repiglio dai ce la facciamo ce la facciamo io vado a pisciare infatti aspetta ah no non si può no ce l'ha il catetere la bottiglia c'ho il pappagallo no ma bisogna farlo dall'inizio no da qua no solo lo scudo ah ok ok sto qua aiuto gli oracoli gli oracoli gli oracoli dove cazzo sono che non vedo ragazzi io provo a star di sopra grande l'hai visto l'oracoli non c'è no dopo adesso era la parte facile dopo spawnano tipo una decina di minotauri anche che bello no allora mi devo tenere la scuola io ce l'ho mi ha detto vai 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 oracoli oh ma cazzo ma spara solo a me o spara a tutti quanti non ho capito io ho fatto l'oracolo bravo under perché io però io non ho sparato a lui per far l'oracolo ma non mi becca perché io se mi abbasso non mi so colpire lui dai toglieni con la merda che c'ha quando avete tutto il marchio oh gli sparo dai dai ok ma ha messo una prigione addosso sparagli sparagli alla prigione ma perché ci sono i cecchini dietro no ho sparato all'oracolo no 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 ho senza munizioni cazzo sono esplosa niente ragazzi ero senza munizioni io gli posso sparare eh gli nevo lo scudo sparagli vai no che fail ha beccato un bug nella roccia abbastanza non è capito a cazzo coglione rituale di negazione gay io sono etero nega l'evidenza nega l'evidenza io sono etero oh gli sparo vai vai e peccati questo figlio di puttana si ma ma roti ah se gli sto qua sopra gli fa tipo la prigione ma io sono infrigionato cos'è successo eh dovete sparare la prigione quando c'è la prigione quando c'è la prigione non dovete muovervi dovete sparare e distruggirla oracoli si ma due volte su due mi rossa coglioni con la prigione eh perché si vede che mi vai vicino non ti non devi muoverti quando c'è la prigione ah ok devi sparare devi sparare e spaccare la prigione ah ma basta capirle le cose vai vai nexus prigione vai spara spara briga ok hai finito i colpi metà che parto che cazzo è lui in tutta l'acqua ragazzi hanno esponato dietro e lo raccomando qua in fondo no non l'abbiamo fatto venite tutti dove sono io sono qua sono qua sono qua no invece l'hanno fatto ah l'ho fatto l'ho fatto io ragazzi buscategli lì la bestemmia dov'è sparata al nexus ma non so dove cazzo è fin di puttana lì in fondo dai ti parrà una pia gara ti piace del culo oracoli qua io non lo vedo neanche qua dove cazzo è no cristos nexus di merda mamma con la mattia siete pronti siete pronti a mirare il nexus si aspetta ok vai guardati vai merda 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 sono accerciato dai mob portati la hot ca 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 ultime le anime sono tornata arriva arrivo io e di cui obbligo a premio opla voilà bene posso sparare la nexus si si fa mai tempo l'ottima idea spara lo mette gli spera una bazzucata mi è venuta la barriera ea me l'ha fatto continuamente ma porca troia di merda mi fa incazzare ma qui c'è l'oraco io darei guarda rievo a distruggere sono venite da me venite da me al matio vieni 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 che ti sta scaricando io la tengo per quando ci siete tutti e io sono morto cristo no sono tutti morti qua no io reggio andrea io reggio andrea no vai vai qualcuno vada ragazzi che fate i morti parla nexus io sento un rituale è sempre sempre pienso di deve cagare il cazzo a me con la prigione questo pezzo di me e ma la mette a tutti la mette a tutti e a dio brando ma cazzo trovate ma è venito anche dell'oracolo venite da me arrivo 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 dove sei io c'è il marchio arrivo 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 cazzo sei sei qua ok io sono smacchiato mi piace basta ma che mi smacchia mi smacchia mi o no no ci stiamo chiedendo troppo standardi nel rage fu eminente che cazzo vuol dire che vai nel rige che ce l'ho mi chiede che pelo mi la maggior parte degli m rpg così quando un boss vai nel rage vuol dire che fa tipo che cazzo è ci sono dei cerchi ci sono dei cerchi ci sono dei cerchi dove si può entrare cazzo ah no è dove si può spona lui porca troia venite da me sto provando venite 3 2 qua c'è il marchio qua c'è il marchio sotto di lui qua dove c'è il mio giallo marchio ancora ma qui è impossibile venite e venite no bisogna sparare gli oracoli no bisogna sparare gli oracoli e qua ma è fatica furia non cazzo incazzato fardo il templare sta provando a teletrasportarsi amore abbiamo vuol dire semplicemente che ci abbia ammesso troppo nel quasi tutti gli m rpg così i boss vanno in rage e quando tu ci metti troppo a farle e quando vanno in rage muori ragazzi assolutamente se non muoio anche io vado a pisciare ciao ciao noi lo aspettiamo qua non raccogliamo lo studio allora ragazzi stiamo tutti assieme anche perché così così quando se c'è da fare il marchio il lì il clans riusciamo a beccarlo se no o per lo meno in due gruppi divisi in due gruppi perché sennò non si capisce un cazzo è due gruppi per forza perché a sinistra a destra ci sono gli oracoli perché oracoli dai perché almeno se c'è sempre qualcuno con te se tu crepi raccoglie lo scudo al volo capito c'è a me ci sei ancora sì sì mica dopo vi faccio vedere dal cazzo sulle casse sono dei posti che non c'è nel senso impossibili ecco bene Ah, abbiamo giù. Ah, guarda. Oh, stiamo scopendo la vecchica, ma non già vuoi. Ahahahah Ahahahah Tutto la giusta Spinge... Ingece la giusta Ahahahahahahahahahha Infine... Mi metto a andare lontano da voi Perchè Uberinio è morto? Porca troia Porca troia Uberinio così bello, guarda, così carino Ho dovuto schiattare come una merda Ma Dio Brando E' andato a pisciare? Eh, mi sa di sì Ehi, vai, aiutiamolo ad andare a pisciare Ehi, vai, aiutiamolo ad andare a pisciare Ehi! C'era che il zingher è il mio da più faricare? Lascialo lì, lascialo lì così quando si muove muove Ecco Ma sono morto? No Per la vita abbiamo ammazzato e abbiamo buttato il tuo Ahahahahahah Ahahahah 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 Aspettiamo Riga No io ci sono Ah no c'è Ok andiamo Allora Ah stavolta sto piottendo Mamma mia Sto sbagliando il sacco Oh il culo Ok Nexus Andro L'importante sì è che non crepi eh Lo so ma sai che cos'è la cosa? Che quando magari io mi muovo Posso solo a coltellare lo scudo E mi esce Capito? Quando io faccio la coltellata Oh minchia Quando io faccio la coltellata dello scudo Lui mi esce automaticamente E muoio Da dove ti esce? Dallo scudo che fa il Nexus Sai quando glielo levo che ti metto lo scudo Ah Quando faccio la coltellata a volte mi esce E da lì che muoio Vai gli levo il scudo Aspetta un secondo Aspetta un secondo che lo distraiamo noi Rituale qua Ma vedi che sto crepando? Ma che cazzo è successo? Oh c'è qui in basso l'oracolo eh Sì 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 No scappa Andre Miratelo Eh no aspetta Aspetta un secondo credito Vai Pronto Vai E buttato Employee I buttato Busto��aggio Merda Dove c'è Andro? Dove c'è Andro? Passo! Sì ma ragazzi quando spunteranno fuori gli stronzi saranno cazzi da cagare Vabbè noi cerchiamo il più possibile poi vediamo Dov'è Nexus? Nexus in mezzo, un po' dietro sulla destra Posso spararvi eh? Vai 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 Passo! No, eh muoio, fanculo Ok io c'ho qualcosa che mi spalle spalle Bizzato via in mezzo Eh c'è un'arpia che vota la scassa ma... Eh fa niente ormai ho buttato da dentro Oracolo! Fanculo! Oracolo qua! Oracolo dove sono io? Ok distrutto Avevo appena attivato la special e l'arpia me l'ha fatto buttare giù Posso spararvi? Aspetta! C'ho dieci secondi per rianimare Andre E' entrato gli spano E' entrato gli spano Si lo spano Non si sa perderebbe Un rituale guardi che c'è un... Oracolo Dove cazzo è questo oracolo di merda Via 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 Ragazzi è da... è a sinistra Eh io non gli faccio un c***o Non c'è resto Niente Spara messo sui pistani Non gli posso mai sparare Perché non gli mette la gabbia che gli mi spara Mi ha popato alle spalle Va che roba Oracoli Dove? Io non lo so l'ho sentito però Si si Ecco noi Posso sparare gli annexi Vai 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 Si 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 sta trasportando dietro di te Diego Arrivo Andre Oracolo Prova a buttare una bomba dove ti fare trasporta lui Così la bomba già da dentro lo fa Proviamo Ma non credo Comunque subito dopo che distruggiamo l'oracolo Quindi da buttargli giù la barriera Si così E buttò giù la barriera? Dai va bene Così è lontano C'è l'oracolo Vediamo se lo scapparlo Si ce l'ho fatta Oddio son morto Minchia è quasi giù tutto Porca troia dai Attento Brando Oracolo Ho visto Lo cazzo è? Non lo vedo Ok Barriera adesso Subito dopo l'oracolo o la barriera? Vai 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 Barriera Non preoccupatevi delle minchiettine eh Ve lo spacco io Oh ci siamo Dai che è quasi morto Cristo di un Dio Nooo Oh che briga Oracolo Non so dov'è Non lo vedo E qua e qua e qua e qua Non lo faccio Mi siete trasportato sopra C'è fatto Mi spacco la barriera Due Uno Vai 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 Eh ci sono morto Eh ci sono morto Minchia no Nexus va a farlo Luzia non c'era la vita Non lo vedo Non lo vedo Arrivo I gatti Non lo vedo l'oracolo io Mi spacco Io Dov'è Nexus? È in fondo da me No davanti a me Dov'è? In fondo di sinistra Vai che lo spacco Vai 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 3 frammenti ascendenti ma che schifo verbetto raggiunto ma che cazzo è un fucile a pompa viola ma perché a tutti i verdetti raggiunto tra le cauberino un automatico come uber che sborrata come mi fate schifo al cazzo proprio adesso ci sono due casse gente alle case dai forza veloce diamo di ammazzo tutti i cazzo di mangaia due pelle di mangala e un antirugine 2.5 ama quindi che l'abbiamo finito quindi questo pezzinale non aderate mi sto cercando di ricordarmi dove cazzo bisogna ricordarti perché mi sta venendo già le palpitazioni qui che ti sparo cazzo se non ti ricordi figa con elettroshock te lo facciamo ricordare allora se noi andiamo giù di qui ma o male che poi ci sta portando fuori strada magari non si può ritornare indietro aspettate un attimo a seguirlo ma tutti a cercare di risalire come dei pazzi quello lì fa finta di quello lì fa finta di non ricordarti se aiuta la cassa solo lui mi metto qua a ballare sul ciglio vengo anch'io un temerario ragazzi guardate non facciamo scherzi l'avvento delle gorgoni ma ti giuro no 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 la sera lì all'inizio guarda guardate sulla finissora adesso si sbonda sui muri quindi me la sono già inculata in una cassa io lo sto giusto non dice più niente siccome è strada a lutare lui no volete morire tutti guarda come si fa no 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 per favore ragazzi se ci fa risponare sotto io perdo la cassa veramente butto la prestation accesso eh guardate oh no gente non ricordo ma cos'è successo aspetta fatemi andare avanti se la trovo la cassa vi faccio venire anche a voi ma sono scesi da una cosa alta se è questo ho trovato durata fammi andare avanti a vedere se c'è se c'è la cassa e questo vediamo 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 se è questo sicuramente è questo dai veniti a questo aspettate ad aprire che ci siano tutti cazzo io stanno davanti a intanto io ti spari ti sparo nella vita vera però venite giù il labirinto delle gorgoni ma non voglio essere spiro non voglio essere venire con i coglioni andre non spingere da che cazzo si fa a scendere di tv e ti butti e quando sei quasi quasi in fondo devi fare un salto e io come sono arrivato se ci stai pigliando per culo ma no non sto pigliando per culo gente facciamo così se non vi buttate vado da per la cazza mica tutti che si buttano è morto no qui dove bisogna andare ragazzi ma qui dove si va mica non sono morti per un miracolo del cazzo ma da qui dove si va dai si muove più la cassa va bene va bene o orco via come cazzo hai fatto a sentire la sopra no 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 non ho fatto proprio questo è stato perché c'è la patria dove la cassa va bene fa niente dove la cassa ma no mica che bozza coperni ci siete no no non andatevi là ma non andatevi là ma non voglio andarvi là voglio per favore scusate guardiamo dio brando no io non posso salire mannaggia aspetta buttate giù una corda ragazzo non fate il coglione a spingere qua perché veramente qui passano le bestemmi e le mani addosso ma dove sarebbe staccato ho ascoltato il fucilio non ho trovato un cazzo come minimo schiaffi per me la cazzo scusate non vedo che ragamena non mi fa salire come salire aspetta aspetta che uberino l'ha trovata a me non fa salire lì ok no ragazzo ma che cazzo fate porno la gente non è andata avanti però è che cazzo è il mio colpa sua scusami scuse mi sono eccitato ma tant'è che bisogna andare qui a destra guardate a destra guardate alla vostra destra qui vedete non sono io è il cazzo che mi tira nella direzione della cassa scusa teme qua per migliorare a parte che mi avrà non avrà la rossa salita e fermo guardiamo ti sparo andrò guarda che lo faccio di qua vedere perché non ci siamo tutti ma guarda che andiamo avanti prima poi la troviamo mi sa la voglio vedere ok io voglio sapere chi cazzo è che è venuto in sto posto come cazzo ha fatto a scoprire infatti a scoperti qua ma ci siamo tutti e che sembriamo i goonies che bello ogni giorno un tracco il tesoro di willy l'orbo guarda guarda la cassa super slot in cui subito è la casca o se l'aprite vi taglio le mani e aprite tutto falco lunare falco lunare ti dico falco lunare pistola esotica e la metto subito la metto subito la pistola esotica allora guarda qua a merda si gente guarda che cazzo abbiamo noi a merda mi ha dato fucile di precisione esotico ma che culo ma che merda cos'è che avete voi due ma cos'è che avete il mantello vi ha dato che bello che bello il vostro mantello scusate però vi faccio un balletto perché ho trovato la pistola esotica falco lunare spaccano i passeri un'altra pelle di mangala oh minchia sei sempre quello che deve rovinare la festa a tutti gente andiamo a pigliare la seconda cassa andiamo a prendere la seconda cassa presto presto seconda cassa poca troia come spara qual è la pistola Diego? questa qua è la pistola del generale caster ok la usava per scacciare gli indiani dalle terre che erano giustamente sue è la madonna posso anche farci giochi di prestigio ok c'è contrapesi, è bilanciata, è molto bella ed è caricata a sale e pepe come quella di zio paperone allora non dobbiamo farci vedere dalle gorgone perché se no moremo tutti mica sono defunto ah ragazzi mi ho perso aspetta, aspettate lì cazzo ho anche occhio alla gorgone da dove siete passati? senti di sotto sì allora no torna indietro un pochino a sinistra, a sinistra, a sinistra, a sinistra, a sinistra eh di qua ci sono dei, dei, ecco bravo, dritto, dritto, dritto giù, eccolo non si vede una minchia eh no non si vede un cazzo però qua è un pochino più chiaro ragazzi, oh sguardo della gorgone sguardo delle porcone sì no minchia ma come cazzo ma com'è che si fa a non farsi vedere? non, non devi andare aggosto e come è semplice io non l'ho neanche vista eh ma l'ho vista a me ma la vede la gorgone? non ci si può neanche stare no, ancora col fumo non serve con la merda in acqua eh? serve con la merda che di bollicine nell'acqua? no, è tipo il cazzo di cose di bello guarda la roba che è fumo blu no la vedete qua? c'è scritto gorgone si chiama gorgone la vedete di sotto? sì sì no c'è quella merdina quella merdina lì c'è ammazzata tutti ma dov'è? o adesso che dietro la roccia dai io non mi ricordo dove cazzo sia la cazza aspetta aspettate aspettate oh andate indietro andate indietro andate indietro merda qui qui state qua state qua venite venite non correte venite avanti c'è la porcona la porcona e ti tirai anche il pugno no sì ma com'è che ci uccide? con una scorreggia fotonica eh la gorgone è una gorgone ma noi per la cassa ce la faremo faremo questo e altro ok ho capito la strada eccola lì andiamo a spaccare il culo con una gorgona di merda arrivo gorghi dico io sto seguendo te ma senza motivo no no ci ha visti ci ha visti giù stai giù mastro sì ma arriva anche da sinistra non so se avete capito venite da dietro veniamo da dietro va bene tesoro no allora adesso andiamo da dietro guardo della gorgone per due no gente cioè basta che veda uno e muore tutta la squadra ok allora io vado avanti che sono invisibile e quando la tipa si gira vi dico via e voi venite senza correre va bene sì e invece se camminassimo accucciati serve qualcosa cambia qualcosa non penso occhio bisogna adesso qua arriverà fermo qua fermi qui indietro che paura arriva no no attenzione no sta entrando proprio di qua torna indietro no ferma tutto aspetta aspetta adesso speriamo che mi torni l'invisibilità più presto aspetta occhiano non correte venite venite sempre a destra buono la cassa ti ho trovato willy l'orbo questa volta l'apro io ragazzi aspettate ma porco dia come mai vi dovete aspettare energia ascendente energia ascendente fra me intrascendente bene gente ragazzi è stato un piacere è stato un piacere ragazzi aspetta che mi voglio strusciare sul berigno sì sì ecco mettiti a quell'altezza giusta dai ma ragazzi ma io provavo questa spallina da ricchione di merda ma che cazzo è cos'è che hai trovato quella roba che ho sul bicipite sinistro guarda ma mi serve guarda è luccica proprio come il cazzo ma guarda che che gheghiata minchia ma guarda che così quando in discoteca da dio bro il braccialetto fashion estate 2012 ma che è di merda non è per dire a tutti che sei impegnato quando vai in discoteca quando vai a gay bar quando vai a gay bar dici a tutti che sei preso grazie a tutti grazie a tutti Al prossimo episodio